Ehi, via da che? Taxi, vai! Molto bene, allora... Ottimo, anche per me. Allora, vi ricordo che la manifestazione è assolutamente autorizzata da comune, quindi se vi ferma qualcuno vi fanno domande strane o altro, beh, siate socievoli e gentili come degli esseri umani anziché degli informatici nei confronti della popolazione e le persone che vagheranno intorno a voi, non abbiate paura di rispondere, ma soprattutto se qualcuno vi dice cosa state facendo, come mai non puoi o altro, telefonate immediatamente. La manifestazione è autorizzata e nessuno dovrebbe arrestarvi. Ma io la mano su fuoco non la metto mai. Se le batterie reggono... L'arresto implica la vittoria... Aspetta, l'arresto perché stai giocando a quello, cioè se adesso vai là e spaccio una vetrina... No, bisogna specificarne poi le cose perché è un gruppo interno e prende le iniziative... Ora, mentre chiediamo anche che vi arrivino in dettagli merito a dove spedirvi e come, l'altra cosa importante è la nuova modalità di avvio del gioco che abbiamo deciso per quest'anno che consisterà nel dover capire da me e lei chi vi farà partire davvero. Perché io avrò questo palloncino in mano pieno di coriandoli, mentre lei darà sul naso quell'antenna. Appena scoppia il palloncino... No, sta lì, sta lì, sta lì, stai lì, dai. Andiamo lì. Down! Qui mi arrivano i pizzini. Quindi, dicevo, l'avvio verrà dato o dall'antenna che cade, dal palloncino che esplode a seconda di quale di due e venti si verificerà per primo. Anche se vi darò l'indizio, non dovrete partire fino a quel momento che mi chiede, che pensate, che sarà un sistema di... Sforziamo, dai. Ora, parlando... Io comincierei a mettere sull'antenna. Se... 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 Il primo indizio volete trovare... Sì. Verso... E a fare la rima è difficilissima... Guarda, guarda, guarda. E lo so che è bravissimo, mi avete fatto vedere prima, io non sarebbe già spaccato. Mi fa male a guardarla. E lei? Lei? Va bene, guarda. Spera anche lo spettacolo. Spera anche lo spettacolo. Credo che il posto adatto dove andare possa essere, se volete tutto la signora addosso, il strato del popolo. un'ompa partendo non lo fate grazie grazie